Ciao a tutti e benvenuti in questa serie di brevi video dedicati all'apprendimento dell'utilizzo di Metamask. L'obiettivo di questa serie infatti è quello di fornire dei video molto brevi ma completi su tutto ciò che riguarda l'installazione e il corretto utilizzo di Metamask, che ad oggi è uno dei wallet più utilizzati al mondo quando si parla di criptovalute, blockchain e soprattutto per interagire con gli smart contract. Ma non perdiamo altro tempo e addentriamoci subito nella guida di oggi, che verte sul scaricare e impostare l'estensione browser, quindi su desktop, di Metamask. Come vedete io sono sul sito di Metamask, che è metamask.io, mi raccomando fate attenzione che l'url sia questo, perché online si trovano diverse truffe e per andare sul sicuro io vi lascio in descrizione il link ufficiale, così non avete problemi. Ecco, una volta arrivati su questa pagina, clicchiamo Download Now e qua come possiamo vedere c'è la pagina con il download. Scendiamo, dove c'è scritto le versioni di browser sopportate. Clicchiamo sul browser che abbiamo al momento, nel mio caso utilizzo Brave, quindi cliccherò su Brave. E veniamo rindirizzati allo store, dove non ci resta che cliccare Aggiungi. Confermiamo. Benissimo, l'estensione è stata aggiunta. Per vederla, che come vedete non compare nella barra delle estensioni, dobbiamo cliccare su questa icona e pinnarla. E come vedete adesso ci comparirà qua. Io per comodità la porto all'inizio. Una volta fatto questo, il lavoro di installazione è completato e passiamo ora alla parte di configurazione. Clicchiamo sulla nostra iconcina, ci verrà aperta una pagina web e clicchiamo Inizia. Ora qua, se avete già un seed phrase, potete importare il vostro wallet, cosa che però non è il caso di questo tutorial, dove vogliamo proprio andare a crearne uno nuovo. Clicchiamo Consento. Creiamo una password. Acconsentiamo, creiamo il wallet. Qua c'è un breve video che ci parla di tutte le misure di sicurezza che dobbiamo adottare per evitare di perdere i nostri fondi, proprio perché in questo caso siamo noi i soli e gli unici a poter avere accesso al nostro wallet. E questo è permesso grazie a queste dodici parole chiave che noi dovremo custodire e non dire a nessuno, in sostanza, perché chi ha quelle parole ha accesso al nostro wallet e di conseguenza può farne quello che vuole. Queste dodici parole vanno assolutamente salvate o su un pezzo di carta o su un password manager o dove preferite, dove ritenete più sicuro e assolutamente non condivise con nessuno. Clicchiamo Avanti. Ecco, questa è la schermata dove ci farà vedere queste dodici parole che saranno la chiave di accesso al nostro wallet, che nel mio caso vi farò vedere perché tanto sto creando un wallet di prova che non userò e quindi su cui non metterò dei fondi. Mi trascrivo queste parole su un pezzo di carta. Clicchiamo Avanti e qua ci chiederà di metterle in ordine per essere sicuro che le abbiamo annotate. Ho cliccato su OK e il nostro MetaMask è configurato. Ed eccoci qua nella schermata principale di MetaMask. Benissimo, per questo video è tutto. Io spero che vi sia piaciuto e soprattutto che vi sia stato utile. E noi ci rivediamo in un prossimo episodio della serie su MetaMask. Ciao! Ciao!